Grazie al restauro in 4K della Cineteca di Bologna ho potuto vedere in sala al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni Sciuscia, uno dei capolavori del neorealismo italiano del 1946, diretto da Vittorio De Sica e scritto da Cesare Zavattini, che si portò a casa la statuetta come miglior film straniero, quando ancora si assegnavano gli Oscar onorari, senza regolarità, erano per lo più premiazioni speciali. Sulla pagina Wikipedia di Sciuscia possiamo trovare anche la motivazione, che recita così. L'alta qualità di questo film, mostrata con eloquenza in un paese ferito dalla guerra, è la prova per il mondo che lo spirito creativo può trionfare sulle avversità. Un film importantissimo che con durezza ci mostra la realtà dei fatti del dopoguerra italiano. Ci viene fatto vedere come questi bambini, come i protagonisti, cercassero di sopravvivere in un'Italia purtroppo povera, degradata. Facciamo la conoscenza di Pasquale Giuseppe, i protagonisti che veramente sono stati attori presi dalla strada come era Duopofare ai tempi del neorealismo. Franco Interlenghi, che ci ha lasciati nel 2015 ma che ha avuto una grande carriera cinematografica, interpreta Pasquale Maggi, mentre Rinaldo Smordoni, che è ancora in vita, interpreta Giuseppe Filippucci. E sono amici per la pelle, che si lasceranno influenzare dagli adulti, sono due persone ingenue, che tentano di guadagnare qualche spicciolo, un po' di soldi per sopravvivere, dormendo fra la paglia dei cavalli, non potendosi nemmeno permettere di lavarsi, ma cercando, lustrando le scarpe, di prendere quei pochi spiccioli che potrebbero servire loro per vivere una vita, almeno dove si cerca di lavorare. Ecco, questa è già una grande cosa. Purtroppo però questa cosa potrebbe portare anche non solo loro ma tante persone a delinquere, perché quando hai fame, quando il lavoro scarseggia, quando veramente hai l'occasione di prendere dei soldi, non stai a pensare se quello che stai facendo può essere legale oppure no. Pensiamo nel film a come per colpa degli adulti siano messi in mezzo questi due bambini che volevano semplicemente vendere delle coperte americane a questa persona, a questa signora, a questa chiromante. Poi per colpa di queste persone che hanno mandato i due protagonisti a vendere le coperte finiranno in carcere, non vorranno fare i nomi e quindi il film tratta assolutamente dei temi importantissimi legati all'infanzia, ai bambini. Quindi Vittorio De Sica con sguardo attento ci mostra in maniera documentaristica, vera, come è necessario nel neorealismo, la vita di bambini che cercano di sopravvivere nel dopoguerra italiano. Il film, girato con meno di un milione di lire, riuscì a guadagnare un milione di dollari globalmente. È stato un successo in tutto il mondo ed è quel tipo di pellicola che non invecchia mai perché ci mostra storicamente la realtà dei fatti, che ci fa vedere quanto ai tempi la vita fosse difficile. Io sono contento che grazie al restauro della Cineteca di Bologna il film, seppur per soli, due giorni possa essere visto nelle sale. Anzi, se foste andati, fatemi sapere qua sotto il vostro parere a riguardo, anche perché vi dico la verità, era una mia lacuna. Io ancora a Shusha non l'avevo visto e quindi ho colto l'occasione al volo per poter andare in una sala prevalentemente vuota, questo ve lo dico ed è un dispiacere, ma dove comunque ho respirato quel grande cinema italiano di cui vado orgoglioso. Vittorio De Sica, accompagnato dalla grande penna di Cesare Zavattini, è riuscito a far recitare degli attori presi dalla strada nel modo più realistico possibile. Ci sono dei momenti in questo film struggenti, ci sono tutte queste dinamiche all'interno delle carceri in cui i protagonisti si ritrovano in cella per di più divisi con uno dei due, cioè Pasquale e Franco Interlenghi, che siccome pensa che stiano picchiando a frustate, Giuseppe rivela tutte le cose che invece si promettevano di tenere nascoste, quindi chi siano coloro che gli han mandati a vendere le coperte da questa signora, da questa chiromante, che poi sono entrati in casa per cercare di derubarla. Così facendo ecco che Giuseppe se la prende, c'è quella scena di rissa nel cortile del carcere che ti fa proprio stare male, poi Giuseppe viene a sapere che Pasquale lo stesse semplicemente proteggendo, perché pensava che gli stessero facendo del male. Quindi ci si riavvicina pian piano, solo che poi ci si mette anche nel mezzo quell'altro ragazzo che Giuseppe ha conosciuto, che è finito in carcere per rapina a mano armata, e la storia, la conoscerete tutti, ci porterà incontro ad un finale drammatico, ad un finale dove un cavallo è al centro di tutto, un cavallo che si erano comprati ingenuamente i due bambini, una volta ricevuti dei soldi, pensando di poterci quindi non solo divertirsi, ma anche guadagnarci un po'. Alla fine quando c'è questa tentata fuga dal carcere con Pasquale che chiede ai carcerieri portatemi con voi perché io so dove sono andati per paura di perdere quel cavallo e c'è quell'epilogo così struggente, c'è quell'epilogo che non vi voglio nemmeno rivelare nel caso non aveste mai visionato Shusha e ve lo consiglio, io mi sono sentito innanzitutto fortunato perché mi rendo conto di vivere, di aver vissuto in un'epoca in cui ho avuto tutto quello che volevo. Secondo me film del neorealismo dovrebbero essere visti da tutti, da tutti quei giovani di oggi come me, dalle nuove generazioni fortunate che dalla vita hanno sempre avuto tutto grazie anche a un lavoro più che dignitoso dei genitori, dei parenti e chi più ne ha più ne metta, ma pensiamo di tornare a quei tempi, nel dopoguerra, quando i genitori non riuscivano a controllare i propri figli, ad educarli nel migliore dei modi, a stargli dietro, quando anzi erano i primi i propri genitori a mandare i bambini a lavorare perché non si potevano permettere di studiare, quindi una conoscenza e andavano a lustrare le scarpe in via Veneto a Roma che già di per sé era violenta, cioè erano proprio strade pericolose nel dopoguerra italiano, quindi non c'era ancora quell'idea di equilibrio, non c'era ancora quell'idea di rinascita, non c'era ancora quel bel paese che arriverà successivamente, quindi i bambini si ritrovano in situazioni più grandi di loro, che non sanno gestire, che vengono usati, che fanno di tutto pur di guadagnare. Prima dell'inizio del film al Rondinella hanno mandato un bellissimo documento in onda, cioè una registrazione dell'intervista che rilasciò Vittorio De Sica alle radio il giorno prima nel 46 dell'uscita del film Nelle sale, che proprio rivela quanto l'attore regista così conosciuto in tutto il mondo, così famoso, proprio si documentò, fece degli studi sulle carceri, su questi bambini che venivano incarcerati sì perché talvolta anche erano arrivati a delinquere, ma per fame, ma perché non avevano soldi, ma perché cercavano a tutti i costi di non morire per strada, abbandonati da tutti e da tutto. Quindi Vittorio De Sica con questo film ha voluto documentare come sa fare bene il neorealismo la realtà dei fatti, ha voluto farlo anche con una regia così puntuale, così precisa, cioè tutti i momenti in carcere sono veramente duri, sono veramente forti, ovvio è una pellicola datata quindi purtroppo in sala le parole non si sentivano benissimo, anzi se ne sentiva veramente poche, ci sono dei problemi per quanto riguarda il restauro per l'aspetto sonoro, ma per il resto la Cineteca di Bologna fa un lavoro egregio, poi io non so se dipendesse dal cinema dove sono andato io, ma penso di no, o se proprio dipenda da un film del 1946, ma vi posso dire quanto veramente mi abbia innanzitutto fatto riflettere perché la maggior parte degli attori, il 99% sono tutti morti, registi, sceneggiatori, ma è proprio un film che fa riflettere, un film che ti entra dentro, dove poi questo cavallo andrà incontro alla libertà e dove anche la realtà dei fatti non è quella che potrebbe aspettarsi il bambino o l'adolescente di oggi, sono film importanti da vedere per conoscere il nostro trascorso e per capire quanto il cinema sia stato uno strumento importantissimo per raccontare la nostra storia. Shusha è un grandissimo film, un tassello fondamentale del neorealismo, visto in sala è stata un'esperienza meravigliosa seppur ripeto ci fossero dei problemi di sonoro, le musiche di Alessandro Cicognini, quanto è meravigliosa la colonna sonora, che accompagna momenti emblematici in un film che ci parla proprio dell'essere bambini, del sognare che possa esserci un futuro migliore, ma molto spesso poi la realtà ti schiaccia. È un film vero, è un film forte, è un film pungente, è un film che ripeto anche adesso nel 2023 ha da dire tanto, quindi non posso far altro in questo breve video, ma spero significativo per chi si ritroverà a guardarlo, di invogliarvi a visionare Shusha nel caso non l'aveste mai visto e a sostenere questi grandi tasselli del cinema ritrovato che può risplendere ancora in sala. Un caro saluto ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo video.